l'anticiclone subtropicale che da alcuni giorni interessa l'intero bacino del mediterraneo sta per subire un netto ridimensionamento a causa dell'affondo di un vortice di bassa pressione il quale nel corso delle prossime 24 36 ore attraverserà l'intera nostra penisola ponendo così fine all'ondata di caldo che ancora però insiste sulla nostra regione un'ondata di caldo che anche se non ha raggiunto un livello di forte intensità peraltro così come era stato previsto ha determinato comunque una condizione di moderato disagio fisico a causa di un tasso di umidità medio alto ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana domani sabato 4 luglio cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con ulteriore aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio i fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità in modo particolare nelle aree a ridosso dei rilievi con possibilità di locali grandinate in serata tendenza ad ampie schiarite temperature in diminuzione con valori massimi inferiori a 30 gradi centigradi ovunque fresco in serata venti in rinforzo dei quadranti nord occidentali e mare da poco mosso a mosso domenica 5 luglio al mattino condizioni di cielo poco nuvoloso con tendenza ad addensamenti consistenti nel corso del pomeriggio segnatamente lungo la dorsale appenninica dove ci sarà occasione per rovesci temporaleschi prima del tramonto non si esclude che le precipitazioni possano temporaneamente sconfinare anche su alcuni tratti di costa temperature stazionarie su valori lievemente inferiori alla media del periodo venti tra debole e moderati settentrionali e mare da mosso a poco mosso nei primi giorni della prossima settimana insisterà una moderata instabilità pomeridiana segnatamente nelle aree interne con possibilità di qualche rovescio fenomeni che non dovrebbero raggiungere la costa grazie al rinforzo dell'alta pressione questa volta però non più di natura africana bensì oceanica grazie all'espansione verso la nostra penisola dell'anticiclone delle azzorre dunque per i restanti giorni della prossima settimana e mi riferisco quindi alla seconda parte della prossima settimana l'estate ci mostrerà un volto benevole anche se qualche rovescio pomeridiano va messo in conto nelle aree montuose bel tempo prevalente dunque con caldo moderato e soprattutto accompagnato da scarsa umidità